Una serata all'insegna della gioia della fraternità si è svolta alla comunità terapeutica assistita Cenacolo Cristo Re di Biancavilla in occasione delle festività natalizie. In apertura il pensiero spirituale del Presidente Don Agrippino Salerno che ha sottolineato come in questo periodo di contraddizioni sociali il Natale di Cristo rappresenta un punto fermo che ci fa capire l'importanza dell'amore e della pace. Poi i saluti dell'amministrazione e dell'equipe multidisciplinare e infine gli interventi di Agatino, Nunzio e Lillo, ospiti della comunità con le loro riflessioni. La serata si è articolata con la proiezione di un video di auguri, la presentazione di un videoclip musicale realizzato da Marco, un altro ospite e da giochi e canti vari che hanno condotto i partecipanti in un'atmosfera di serenità e spirito natalizio.